Si è svolto in maniera ridimensionata rispetto alle aspettative degli stessi promotori e dai timori invece delle varie amministrazioni comunali lo sciopero dei dipendenti della dedolambiente, la società d'ambito che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei sette comuni del lato AG3. All'origine della protesta dei lavoratori vi sono i ritardi nel pagamento degli stipendi, le mensilità arretrate sono ormai ben tre a causa della grave difficoltà finanziaria in cui versa la dedolambiente che non riesce a raccogliere dei sette comuni dell'ambito quanto dovrebbe e quindi non riesce ad assicurare il pagamento degli emolumenti. La situazione più grave è quella del comune di Licata, debitore di diversi milioni di euro nei confronti della dedalo. Questa mattina davanti al palazzo di città si è svolto un sit-in di proteste dei lavoratori che hanno chiesto un incontro con l'amministrazione comunale guidata da Angelo Craci. L'adesione allo sciopero degli operai del cantiere licatese è stata pressoché totale con il servizio di raccolta dei rifiuti che è stato fermo per l'intera mattinata. La situazione è diversa invece negli altri sei comuni dell'ambito. A Canicattiglio gli operai questa mattina hanno garantito il servizio svolgendo le normali attività lavorative a Campobello di Licata. Invece la raccolta dei rifiuti è stata esclusivamente garantita nelle zone dove si svolge il tradizionale mercatino settimanale, in programma proprio nella giornata di oggi. A Ravanusa il sindaco Armando Savarino ha avuto ieri un incontro con una delegazione dei lavoratori, il quale ha assicurato il pagamento delle mensilità di maggio e giugno e lunedì quella di luglio. E così oggi nel comune Saraceno la situazione è stata di normalità per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. Stessa situazione a Palma di Montechiaro dove però il lavoro dei netto urbini è stato subordinato all'esigenza di garantire la pulizia della città interessata in questi giorni dalle festività del Santo Patrono Maria Santissima del Rosario. Situazione alla normalità infine anche nei due comuni più piccoli del lato EG3, Naro e Camasso, dove questa mattina è stato assicurato il regolare servizio di svuotamento dei cassonetti. Grazie.